Parleremo della mobile workforce, introdurrò un concetto del contratto psicologico per spiegare come senza un sistema di welfare articolato correttamente l'esperienza all'estero diventa come dire un'esperienza anche ricca di rischi e dolori come spesso succede, poi passerò a trattare il tema del welfare per la mobile workforce che secondo me deve essere articolato in diverse aree proprio per sostenere il contratto psicologico tra individuo e azienda, quindi passeremo al tema dell'ato azienda ovvero sia come l'azienda risponde a questo tipo di esigenze coniugando aspettative individuali ma anche obiettivi aziendali. Infine parlerò dei nomadi globali, se ne parla spesso e quindi come il welfare può supportare l'esperienza lavorativa di un global nomad all'estero. Allora, io lavoro per Augusta Wasteland, Augusta Wasteland è un'azienda che sviluppa, produce, vende elicotteri come penso sia evidente anche nell'immagine e siamo tra i primi cinque produttori mondiali di elicotteri i nostri concorrenti sono aziende come Boeing, Airbus e via di scorrendo. Siamo presenti in 34 paesi in tutto il mondo abbiamo una popolazione aziendale direi di un certo rilievo, 13.000 persone. Abbiamo un valore della produzione ovvero un fatturato superiore a 4 miliardi di euro all'anno e quindi siamo anche un'azienda che ha una certa complessità organizzativa e necessità di poter interoperare in diverse geografie. Mediamente investiamo come molte aziende tecnologiche nel nostro settore più del 10% del nostro fatturato in R&D e questo pone anche il tema non soltanto del welfare ma anche della retention di persone con un know-how così specialistico. Attualmente io come responsabile del reward international mobility gestisco una mobile workforce di 300 persone che nella mia esperienza è una dimensione di mobile workforce che inizia a essere interessante quindi con tutta una serie di complessità. Il termine mobile workforce che io uso spesso è un termine che alle volte può sembrare abusato, se ne fanno diversi utilizzi con diversi significati, io in maniera molto semplice ritengo che la mobile workforce sia il gruppo di persone cui l'azienda richiede di operare stabilmente in un certo periodo all'estero. Questo chiaramente significa che l'azienda deve supportare con un piano di welfare, con un'offerta articolata di strumenti di supporto, l'esperienza lavorativa all'estero. Chiaramente poi in questo termine ci sono diverse casistiche, abbiamo delle persone che vanno in distacco internazionale più o meno di breve periodo, i trasferimenti all'estero, i famosi commuter che è una realtà che sta diventando sempre più importante e quindi va gestita anche in termini di welfare e infine i percorsi di carriera internazionale quelli che chiamo i global nomads, ovvero sia i Bruce Chatwing dell'azienda. Ok, benissimo, allora entriamo un po' nel vivo del tema. Il contratto psicologico sostanzialmente come tutti sappiamo è quell'insieme di aspettative che la persona ha nei confronti dell'azienda, quindi essenzialmente è fatto da tutte le aspettative che la persona nutre in termini di carriera, sicurezza del lavoro, sistemi di supporto e quant'altro. Chiaramente il contratto psicologico è importante nel capire qual tipo di welfare bisogna strutturare nelle circostanze in cui ci troviamo ed è anche importante perché proprio attraverso questo sistema di aspettative che la persona ha nei confronti dell'azienda, soltanto in questa maniera possiamo evidenziare quali sono gli elementi importanti che se supportati garantiscono un pieno successo dell'esperienza all'estero. Chiaramente anche nel momento del rimpatrio, cioè il rientro della persona in casa, un sistema di welfare che accompagni un rientro soft può essere d'aiuto, anzi alcune aziende, quelle più illuminate, operano anche in questo senso offrendo sistemi di welfare, quindi offerti di welfare alle persone che rientrano per un certo periodo dopo l'esperienza all'estero. Essenzialmente il concetto di welfare è importante perché supporta il contratto psicologico, cioè dà una mano all'azienda a rispondere alle esigenze delle persone e anche attraverso questo corretto bilanciamento tra esigenze e risorse e strumenti di supporto di welfare che la persona può operare quello che viene chiamato nel gergo della mobilità internazionale l'aggiustamento. Quando noi ci andiamo all'estero dobbiamo adattarci, imparare a vivere bene, a trovarci bene in un ambiente nazionale diverso, culturalmente diverso e quant'altro. Chiunque vada all'estero ha bisogno quindi di un periodo di acclimatamento, di adattamento e soltanto tramite un sistema di welfare che lo supporti in questa sfida, in questo impegno, possiamo poi immaginare che la persona operi questo aggiustamento, che è un aggiustamento anche abbastanza articolato in termini culturali, in termini di nuovo ruolo in cui vado a lavorare, ma anche in termini di rapporti personali e di supporto alla propria famiglia. Un esempio di successo è tramite questo aggiustamento abbiamo la possibilità per la persona di mantenere quel livello di engagement, cioè di impegno che le consente di lavorare opportunamente. Quindi il welfare è critico nell'esperienza dell'espatrio della vita lavorativa all'estero proprio perché supporta la persona in questo percorso che alle volte può anche durare degli anni. Per entrare un po' ancora più nel vivo, chiaramente sulla base dell'analisi del contratto psicologico tra le due aziende, soprattutto per come viene a configurarsi nel momento in cui si opera all'estero, secondo me ci sono cinque aree che bisogna coprire e sono cinque aree in cui le aziende poi finiscono per offrire una serie di servizi di welfare proprio a supportare la persona e la sua famiglia durante il periodo di lavoro all'estero. Sicuramente c'è un elemento di sostegno che è presente in tutti i piani di welfare, non soltanto internazionali ma anche quelli domestici. Normalmente parliamo di supporto alle volte materiale tramite supporto al rimborso a casa, scuola e quant'altro, ma abbiamo anche negli ultimi anni osservato il diffondersi di sostegni di carattere psicologico, non perché ci siano particolari problemi che la persona ha al punto di vista psicologico, ma proprio perché l'adattamento, l'aggiustamento, come dicevamo prima, di una persona a un nuovo contesto internazionale ha bisogno spesso di un supporto, quindi l'offerta di questi servizi di sostegno è utile anche per favorire l'adattamento della persona all'estero. Un altro elemento è quello della protezione, protezione di tipo sanitario, di tipo previdenziale, anche qui è niente di diverso da quello che viene offerto a casa nostra, quindi nei confronti delle persone che operano in patria. È importante pensare però che proprio in quest'area, e credo che alcuni l'abbiano già detto, esiste un primo elemento di differenza tra chi lavora in casa e chi lavora all'estero, nel senso che i sistemi protezione sanitaria, assicurazioni mediche e anche i piani pensione internazionali sono un'area in cui le aziende spesso si devono cimentare per supportare al meglio le persone che operano all'estero. Non sottovaluterei anche il tema della travel security, dove io per travel security intendo essenzialmente tutte le politiche che l'azienda mette in atto per garantire l'operato e la persona in condizioni di sicurezza. La mia azienda nel 2011 aveva 60 persone in Libia, proprio quando è successa la rivoluzione, e chiaramente lì abbiamo anche un po' fatto la nostra esperienza sulla nostra pelle, nel comprendere come senza un sistema di sicurezza personale dei nostri lavoratori all'estero, diventava anche difficile operare. Questo ha significato anche che i nostri colleghi nel momento in cui, dopo l'esperienza libica, abbiamo offerto di operare all'estero, tutti ci hanno richiesto, è la sicurezza? Quindi il sistema di welfare tende ad articolarsi a seconda delle esigenze mutevoli della persona e della sua famiglia. Quindi anche il tema della travel security è un elemento di welfare, per come vedo io, perché supporta un elemento, un bisogno fondamentale della persona, è quello della sicurezza, soprattutto quando si lavora in sedi disagiate. Uscendo un po' dal panorama normale, diciamo, tipico del welfare domestico, per come lo chiamo io, c'è anche un tema dell'accesso. Chiaramente la persona nel momento in cui opera all'estero, decide di operare all'estero, ha bisogno di un supporto, di alcuni strumenti di supporto, per entrare, per accedere al nuovo tessuto sociale, culturale e quant'altro, e acclimatarsi al nuovo paese. In questo caso il welfare che noi offriamo alle persone che operano all'estero è abbastanza articolato. Abbiamo ad esempio corsi di lingua, corsi di cost cultural training, ma abbiamo anche delle iniziative che noi chiamiamo buddy programs, ovvero sia diamo modo alle persone che operano all'estero di avere un buddy, cioè un amico che viene scelto all'azienda, che ha il compito di supportare la persona nei primi passi alla nuova realtà aziendale, dargli suggerimenti, consigli e essere il primo punto di riferimento. C'è da dire anche, e qui muovo al tema del Connect, che nel mondo dell'International Mobility si parla spesso lontano dagli occhi, lontano dal cuore. È una tendenza abbastanza normale che sentono le persone che vanno all'estero e che crea molto disagio il fatto di sentirsi tra virgolette abbandonati. L'azienda normalmente dà delle risposte anche abbastanza tradizionali a questo bisogno di sostegno, organizzando o meglio accordando anche come benefitti dei viaggi di rientro in patria. Ritengo però che questo non sia sufficiente. Bisogna andare oltre e cercare di mantenere la persona inclusa nella cultura del Paese di origine anche attraverso altri strumenti. Non è da sottovalutare anche tra i tradizionali processi HR, proprio da una progettazione attenta dei processi di HR, per esempio il performance management, che garantiamo che la persona si senta inclusa, si senta connessa con la madre patria. Per esempio, organizzando la valutazione delle prestazioni fatte a quattro mani dal manager che ha rilasciato la persona e dal manager che la sta gestendo durante il periodo all'estero, noi possiamo dare la sensazione, anche la vera verità, alla persona di essere seguito in un trade union tra passato, presente e futuro. Infine abbiamo il tema dell'enable, che poi essenzialmente è il work-life balance. Essenzialmente anche all'estero, per mantenere le esigenze che la persona ha di contemperare, esigenze di lavoro, esigenze di vita, è opportuno dedicare politiche specifiche ad hoc. Normalmente questo lavoro viene fatto armonizzando le diverse policy work-life balance all'interno delle varie aziende, identificando un livello minimo di work, di politiche, quindi di servizio, di benefit che offriamo alle persone che operano all'estero. Passando poi dal punto di vista della persona, dal punto di vista aziendale, l'azienda in questi casi, nel welfare per la mobile force, dà risposte di un certo tipo, ovvero sia dà risposte di tali da segmentare la popolazione in diverse categorie e a ciascuna di queste categorie offre un pacchetto di welfare specifico. Normalmente la segmentazione viene fatta incrociando due assi, il valore per il business dell'esperienza all'estero, cioè manda una persona all'estero per un certo scopo di business molto importante a me, molto importante per l'azienda, è il valore in termini di sviluppo, ovvero sia quanto questo movimento all'estero ha un valore per la persona come in termini di sviluppo e di crescita. Incrociando queste due dimensioni molto spesso le aziende segmentano l'offerta di welfare, identificando quattro cluster di persone e cercando di gestire, di canalizzare l'investimento economico in mangiare in maniera differenziata a seconda del segmento. Per cui per esempio molto spesso sento parlare di developmental assignment che effettivamente sono abbastanza diffusi in molte aziende, ovvero sia esperienze lavorative all'estero fatte con lo scopo preciso di far crescere la persona. La persona quindi riceve in cambio la sua disponibilità di lavorare all'estero un'opportunità di sviluppo e quindi attraverso questa strada c'è uno scambio da risorse monetarie che l'azienda offre e opportunità di sviluppo che possono essere prese in considerazione come uno scambio abbastanza diciamo pure fair. Quindi quello che voglio dire in sostanza è che la risposta dell'azienda tende ad essere un po' segmentata secondo il tipo di persone e canalizza opportunamente gli investimenti monetari e non monetari in funzione del tipologia di esperienza lavorativa. Naturalmente questa politica di segmentazione che peraltro non è poi così diffusa, secondo quanto ho letto in diverse ricerche, circa il 50% dell'azienda utilizzano quel tipo di segmentazione o una segmentazione diversa, molti altri utilizzano un'unica offerta di benefit uguale per tutti. Ciononostante questo tipo di offerta viene messa leggermente in crisi anche dall'evoluzione del panorama mobile workforce. Noi osserviamo sempre di più che ci sono dei short term assignment rispetto ai vecchi distacchi esteri che durano due o tre anni. Questo significa che l'azienda deve cercare di offrire un welfare agile che possa essere attivato e disattivato nel giro di una settimana o due per la durata di pochi mesi. Inoltre notiamo sempre più che ci sono destinazioni in paesi disagiati e questo tende a modificare l'offerta del welfare perché porta in auge bisogni come la sicurezza personale e quant'altro che prima erano tenuti un po' in secondo piano. Inoltre notiamo spesso che è sempre maggiore il numero di donne che vanno all'estero, international assignment, non come partner dell'espatriato ma perché sono loro stesse inviate per un'esperienza internazionale all'estero e questo porta con sé tutte quante le necessità di work life balance che consentono alla donna di vivere opportunamente e pienamente sia la sfera professionale che quella familiare. Poi abbiamo la generazione Y che è un fenomeno nuovo nel nostro mondo in quanto è più attento al benessere personale molto meno magari all'aspetto economico però notiamo spesso che è difficile mandarli in location abbastanza disagevoli. Mi dicono sempre non mi mandare in Libia, in Francia potrebbe andare bene. Allora dico benissimo. Quindi ci sono diversi fenomeni della mobile workforce, diverse articolazioni che tendono a cambiare poi l'offerta che l'azienda deve offrire in qualsiasi momento a loro. Infine la crescita del numero dei nomadi globali. Bene, i nomadi globali sono, io li chiamo i Bruce Chatwin della situazione perché sono persone che deliberatamente decidono di andare all'estero e iniziano da assignment su assignment a muoversi in diversi paesi. Chiaramente questo è reso possibile ad altitudini di alcune persone quindi l'assenza di legami culturali particolarmente forti col paese d'origine, un certo spirito di avventura, di adattabilità che ne aumenta peraltro anche il valore. Le aziende cercano questo tipo di persone perché soltanto con questo tipo di persone possono risolvere problemi complessi di integrazione di certe branch nel network aziendale e altre tematiche che effettivamente diversamente non si possono risolvere tanto facilmente. Sono molto ricercati, sono richiesti e lo sanno. Quindi hanno esigenze di welfare anche più alte di quelle standard, per morestando che anche la situazione in cui si trovano, cioè di dover operare nel tempo in diverse circostanze, mette anche in difficoltà il sistema welfare vero e proprio. Come dicevo prima, il modello tradizionale welfare entra un po' in crisi. Ad esempio il tema del pensionistico, è difficile seguire dal velo pensionistico queste persone perché operano in diversi paesi, un paese o l'altro, sistemi pensionistici diversi, diventa anche difficile tenerli nel sistema pensionistico di base. La risposta che noi diamo è quella dei piani pensioni internazionali, che è già una prima risposta, però alcuni problemi, il problema delle economie di scala che sono difficili da fare con un'azienda di medie dimensioni come la mia, ma anche il fatto che il trattamento fiscale tributario non è favorevole per questo tipo di incentivi. Inoltre la necessità di avere contratti di lavoro che siano abbastanza flessibili da abbracciare l'erogazione della prestazione in diversi paesi. Quindi la risposta che diamo in questi casi è fare contratti di lavoro internazionali senza una sede specifica, fissa, che includono anche un set di benefit nel contratto di lavoro, quindi non sono gestiti on top del contratto, ma fanno parte del contratto. Naturalmente sono politiche che funzionano ma fino a un certo punto, nel senso che da una parte abbiamo che l'assetto valoriale di queste persone, cioè il modo di pensare, un modo di pensare tale per cui hanno un approccio con l'azienda tipicamente un do to death, quindi hanno bisogno di sentirsi coccolati, hanno bisogno di sentirsi seguiti, hanno anche una serie di esigenze che non sono tradizionali e la ricetta che è anche difficile da mettere in pratica, mi rendo conto, in realtà è quella di fare un welfare tailor made, fatto one to one, specifico per le esigenze della persona. Quindi per concludere, rimane nei tempi, il tema del welfare per la mobile workforce deve naturalmente essere più articolato del welfare domestico proprio perché le esigenze delle persone che operano all'estero di connessione e di legame sia con la madre e padre che nel nuovo paese e di aggiustamento culturale sono maggiori. Le risposte che noi diamo in questi casi sono risposte di tipo parziale, come dicevo prima, perché non ci assiste dal punto di vista legale e fiscale la normativa nei paesi in cui operiamo. In ultimo commento che farei è il fatto che l'estensione, il cambiamento del welfare è spinto sempre più dalla segmentazione, dalla variabilità dei vari segmenti della mobile workforce. Grazie. 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 Grazie.